Hanno mangiato gratis in tante occasioni, approfittando del buon cuore dell'ospitalità offerta dai padri cappuccini che gestiscono la mensa per i bisognosi annessa al loro convento di Bassano. Ma non ci hanno pensato due volte a creare danno proprio ai loro benefattori. Così hanno tentato di scassinare la cassetta delle offerte all'interno della chiesetta per rubare il denaro contenutovi e hanno fatto visita anche alla Canonica per impossessarsi di un tablet dei frati. Seppur con molta amarezza, i frati una volta che si sono accorti dell'accaduto hanno subito sporto denunce ai carabinieri che in pochi giorni, vagliando le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza attive nell'area del convento, sono risaliti ai due ladri. Nei guai per furto, aggravato in concorso all'interno di luogo di culto, due marocchini di 29 e 39 anni residenti una a Rosà, l'altro a Bassano. Identificati raggiunti e messi alle strette dai militari, hanno ammesso il colpo e riconsegnato il materiale rubato.